Papagalino e osso, oggi c'è le audizioni, che si ascolta la musica, oggi andiamo le audizioni, ok? Ok, bene. So, andiamo a scendere. Oh, what do you mean? Oh, what do you mean? Oh, my, what do you mean? Il prossimo... Buongiorno, signore. Buongiorno, simia. Noi ci presentiamo il papagalino Justin Bieber. So coraggio. Okay. Eh! It isn't it, I today sorry! Cause uh! And this movie, just your body! Oh! It isn't it now, today sorry! Well NO I dot e I let you down! It isn't it today, sorry now, sorry! Eh. bravissimo bravissimo papagallino bravissimo papagallina hai fatto un bel lavoro le audizioni della musica però gli darò un bacio ora tornavo a casa ciao ragazzi papagallino ma sei bravo alle audizioni della musica ma sei romantico gli darò un bacio le audizioni grazie grazie